Non riesci a ricordare, no? Amico, io è tutta mattina che mi concentro su questo caffè. Prima viene polizia. Adesso lo vuoi. Io non mi ricordo di averlo preparato. Forse mia moglie. Forse. Era casino. Hai capito? Va. Oh! Che fa? Oh! Oh! Lo vedi con mattina la voce quando vuoi? Ti prego la busta, no? Oh, ma non capisci quando va? Ma che sei un cagliato? E' un cagliato, no? Voglio sentire... E' un cagliato, no? E' inutile che cagliato. A me non mi fai bene, capito? No? A me non mi fai bene. Ti assagino. Non cagliato. Non devi piangere. E' capito? Voglio sentire... Oh! Allora? Africa. Mai lavato un piatto in tua vita, vero? No, nemmeno uno. Eh. Come si dice in Egitto? Tocca che ti impari se no so cazzi amari. Ah, così si dice in Egitto? Sì, sì. . Tu devi attaccare bene il cavo. Lo so, lo so, non c'è bisogno che me lo dici tu. È la cuffia che non funziona. Vai via, vai via che non sai fare niente. Tu non sai fare niente. Non ti devi permettere, non mi devi rispondere. Vai via, vai via. Valeria, tuo padre non ha fatto aerosol. Ma te ne vai! Tu figlia mia, tu non parlare di me. Posso imparare meglio l'italiano e non farmi rubare la birra, ok? Questa è la paura, la porta non si apre. E con la paura le cose più facili diventano difficili. Senti Amir, non è che uno vuole pensare a male, ma... Ma siamo arabi e quindi siamo dei terroristi. Sinceramente l'ho pensato. Strano, perché tu sei napoletano e non mi hai mai sfiorata l'idea, ma mai, che tu fossi un camorrista. Secondo me c'è ragione. Allora, cos'è sta storia dell'attentato? Voi non vi dobbete muovere. Per adesso non vi dobbete muovere. Sì, questa è una volta che ci siamo fermati. Ma non abbiamo mai fatto un'attività, questa è una volta grande. Questa è un'attività. Allora... 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 Allora...